Io sono Marco Lincetto e da circa 50 anni mi occupo di registrazione audio della musica. Sono tuttavia un umanista, ho fatto un percorso di studi classico, liceo classico, poi giurisprudenza all'università, ma per l'appunto ho sempre coltivato questa passione che poi è diventata una professione della ripresa del suono. È diventata una professione, alcuni dicono, piuttosto apprezzata. Perché questo mio legame, questa mia passione verso la musica, fin da quella mia prima registrazione quando avevo 13 anni, perché io sono nato e cresciuto nella musica grazie all'attività, all'arte di mio papà Adriano, che è stato un grande interprete del pianoforte, ma è stato un grande compositore, un grande didatta, docente di conservatorio per tutta la vita e poi condirettore del conservatorio di Padova negli ultimi circa 10 anni della sua attività, prima della prematura scomparsa. Quindi io ho respirato musica in casa, musica di alto livello, come narrato in molti video presenti in questo canale. La professione diventa tale nel 1993, quindi sono 31 anni ufficiali, 31 anni e mezzo da che ho iniziato la mia attività professionale di producer e sound engineer grazie ad una produzione per l'etichetta Ariston di un disco di musica classica contenente musiche di mio papà come compositore. Da lì è stato un continuum mai arrestato, fino alla fondazione nel 1995 di Velut Luna, che è la mia etichetta indipendente, che si occupa di musica classica, musica jazz e un po' di musica d'autore, che ripeto è sul mercato ormai da quasi 30 anni, l'anno prossimo saranno 30 anni, con 380 titoli realizzati a catalogo, ma soprattutto nella prima parte della mia carriera, almeno fino a tutti gli anni 10 del 2000, forse l'attività prevalente è stata quella di sound engineer e musical producer per, credo, quasi tutte, sicuramente alcune fra le più importanti etichette di musica classica del panorama mondiale, come mi piace dire di solito dalla Decca in giù. Quindi la musica è la mia vita, ma senza dimenticare la mia formazione, che è di impianto strettamente classico e quindi con tutto ciò che questo implica nell'approccio multiculturale alla materia che io tratto, ma soprattutto nell'approccio umanistico alla materia che io tratto. A me non interessa, o meglio, interessa molto relativamente l'aspetto numerico, l'aspetto tecnico delle faccende che riguardano la musica, sia registrata che riprodotta. Certamente conosco molto bene la tecnica che mi serve, ma questa tecnica è da me sempre utilizzata, senza preconcetti scientisti, ma funzionalmente al risultato umano, al risultato musicale che devo ottenere, risultato che io ho molto ben chiaro nella mia mente. Infatti le mie registrazioni nascono nella mia testa prima ancora che nella realtà e la fase con cui io progetto e realizzo fino al prodotto finale che arriverà nelle case degli appassionati musicisti, una mia registrazione, è puramente concettuale. Il suono nasce a partire dalla scelta del musicista. Tanti si dannano l'anima a cercare di capire com'è il suono del master originale. Bene, io lo so molto bene com'è il suono del master originale perché questo è frutto di un lungo percorso che, ripeto, parte nella fondamentale scelta del musicista, perché ciascun musicista ha il suo suono che è lo specchio della sua anima, che è lo specchio dei suoi studi, dei suoi approfondimenti, di tutta la sua realtà umana, oltre che tecnica. Io adesso, a questo proposito, apro una parentesi veramente importante perché questo concetto si potrà, capire molto, molto facilmente, all'ascolto dei prossimi due frammenti di brano, pochi secondi, di pianoforte solo, dove a suonare sono due distinti bravissimi, eccezionali musicisti, pianisti, jazz. Uno è Massimo Parente, l'altro è Oscar del Barba. Qual è la caratteristica e perché vi faccio sentire questi due frammenti? Perché entrambi suonano sul medesimo pianoforte, nella medesima sala, con la medesima microfunzione. E allora, ascoltiamo prima pochi secondi di Massimo Parente, da questo disco Mister Piano, e poi dal medesimo disco pochi secondi di Oscar del Barba. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 flow di produzione, quindi dopo la scelta dei musicisti io scelgo lo spazio sonoro dove realizzare la registrazione, che è un altro elemento fondamentale e imprescindibile nel raggiungimento del risultato finale. E una volta scelto lo spazio e ambientati musicisti e strumenti, scelgo i microfoni e li scelgo ancora una volta senza preconcetti, senza condizionamenti, li scelgo in funzione innanzitutto del risultato finale che io voglio ottenere, ma ovviamente anche in funzione dello spazio, del tipo di strumenti eccetera eccetera eccetera. Quindi per me tanto fa, come si dice, utilizzare un microfono vintage a valvole pieno magari di difetti ma con alcune qualità che in quel momento mi servono, come invece usare microfoni di ultimissima generazione, ipertecnologici e mirati ancora una volta ad un altro tipo di risultato. Una volta scelti i microfoni si tratta di scegliere come disporli sul campo e ancora una volta io non ho preconcetti. Uno, dieci, cento, mille. Questa è la mia regola. In funzione di quello che serve deciderò quanti microfoni usare, se usare la classica coppia tanto amata dall'audiofilo e dai talebani della registrazione di turno, la classica coppia dicevo microfonica puristica, come piuttosto usare dieci, venti, trenta microfoni. Mi è totalmente indifferente. L'unica cosa che conta è il risultato finale che io ho scritto, stampato nella mia mente, prima ancora di iniziare la registrazione. Questa fase della scelta dei musicisti, della scelta della sala, dei microfoni e del loro posizionamento è per me la fase essenziale della produzione, perché ritengo che dopo questo momento, dopo questa fase, qualunque altro intervento che dovesse seguire, cosiddetto di post produzione, può essere solo peggiorativo o contenitivo, per così dire, di problematiche da risolvere, problematiche magari estemporanee. Ecco quindi che io dedico tantissimo tempo a questa fase iniziale. Dopodiché, spesso, se ho un'unica coppia microfonica, mi limiterò a farla transitare dal dominio digitale al dominio analogico, facendo passare il segnale attraverso macchine analogiche inermi, cioè in condizione flat, esclusivamente per fruire dei vantaggi derivanti dal passaggio attraverso eccellenti circuiti analogici, per arrivare poi al master stereofonico finale, analogico e digitale, sempre e comunque. Se invece ho realizzato una registrazione multimicrofonica, come molto spesso accade, all'interno della workstation di produzione io non farò nulla, mi limiterò semplicemente a far uscire, così come sono entrati in registrazione, i segnali per via diretta e questi segnali verranno immediatamente convertiti in dominio analogico attraverso un convertitore DA multitraccia e convogliati all'interno di un sommatore, un sommatore della ditta Rupert-Neve-Design, che è quello che sto usando attualmente, per un massimo di 16 canali. Dopodiché, grazie a questo sommatore, mi limiterò a riequilibrare laddove è necessario i livelli e ovviamente laddove è necessario e non sempre è necessario posizionare sul palcoscenico sonoro correttamente i microfoni. Intendo dire, non verrà fatto nessun altro intervento cosiddetto di mix, non verranno inseriti compressori, equalizzazioni specifiche sui singoli microfoni, sulle singole tracce e questo perché non sarà necessario, perché queste caratteristiche dinamiche e timbriche saranno già perfette in fase di ripresa. Dal sommatore analogico Rupert-Neve-Design il segnale entrerà nel mio workflow, nella mia catena cosiddetta di mastering che prevede un equalizzatore stereofonico, un compressore monobanda stereofonico e un limiter monobanda stereofonico. Tutti oggetti di eccellenza assoluta della ditta Maselek. Come dicevo, spesso queste macchine servono esclusivamente a far transitare il segnale senza operare alcun intervento specifico. Altre volte si possono utilizzare funzionali al miglior risultato finale, leggere compressioni piuttosto che leggere equalizzazioni, piuttosto che leggeri controlli di picchi che condizionerebbero negativamente la dinamica globale del progetto attraverso il limiter. In uscita dalla catena Maselek il segnale splittato entrerà parallelamente in un master digitale grazie alla riacquisizione in dominio digitale ad alta risoluzione per il tramite del magico convertitore Prism Sound AD2 Dream e dall'altra parte in un master analogico su nastro in bobina open reel da un quarto di pollice che corre a 38 centimetri secondo. Questi master così realizzati verranno poi indirizzati alle fabbriche che si occupano della duplicazione dei supporti che noi normalmente vendiamo, ovvero CD Gold per quanto riguarda il dominio digitale e vinili per quanto riguarda il dominio analogico. Questa fase di duplicazione finale è l'unica che non seguo io personalmente ma è seguita da tecnici di eccellenza che io ho scelto con certosina attenzione nel corso del tempo e con cui regolarmente mi interfaccio per comunicare al meglio qual è il risultato finale che io voglio ottenere. La realizzazione di un vinile è un'arte che richiede competenze specifiche e attrezzatura specifica di eccellenza non certamente disponibile a tutti. Attualmente per quanto riguarda la duplicazione dei vinili io mi appoggio a due distinti stabilimenti uno in Germania con tecnici tedeschi e uno in Italia a Napoli con tecnici italiani. In entrambi i casi colui che è responsabile in Germania e in Italia del taglio della lacca è sempre in contatto diretto con me, si interfaccia con me per sapere di volta in volta quali sono le mie esigenze. Esigenze che del resto io cerco di modellare già nei contenuti del master che invio per la duplicazione ovvero conoscendo io perfettamente le problematiche soprattutto nell'ambito del vinile della duplicazione della realizzazione di una lacca cerco di proporre al tecnico che taglierà la lacca esattamente un master su cui sia necessario intervenire il meno possibile. Tuttavia sempre è necessario intervenire ed è per questo che è costante la mia interfaccia con chi si occupa di questa fase. Ciò nonostante prima di andare in stampa regolarmente e questa è una cosa piuttosto normale nonostante oggi qualcuno voglia farla apparire come cosa eccezionale dicevo regolarmente prima di andare in stampa mi vengono inviati due o tre cosiddetti test pressing ovvero delle versioni leggermente differenti di quello che sarà il risultato finale io li ascolterò nel mio impianto di riferimento nel mio studio di produzione e darò la produzione ad uno di questi e questa è ripeto una procedura regolare e standard per così dire prima di andare in stampa tutto questo perché ripeto e non starò qui adesso a fare una lezione sulle problematiche della duplicazione del vinile ma trovate moltissimi tutorial online che ve lo spiegano molto bene. Questo sono io questa è la mia realtà sonora questo è il contenuto che io vado a mettere nei miei dischi dal punto di vista tecnico in realtà come avrete capito è un contenuto umano anche perché l'aspetto per me più importante evidentemente è il contenuto musicale ora nell'ambito di valut luna voi troverete sempre musicisti di eccellenza e sempre per quanto possibile proposte musicali che abbiano un proprio significato una propria originalità ed un proprio motivo di esistere all'interno dei cataloghi musicali disponibili e questo a prescindere dalla fama dell'interprete che spesso viene confusa con la qualità e dalla popolarità della proposta musicale molti miei dischi possono apparire ad alcuni eccentrici forse troppo particolari ma sempre dietro ad ognuno dei miei dischi esiste un concept artistico che lega l'importanza dell'interprete con l'importanza e l'originalità del repertorio proposto ma torniamo dopo questo necessario ancorché lunghissimo preambolo al significato e al senso di questo canale perché esiste questo canale perché io l'ho aperto canale è stato aperto molto tempo fa nel 2013 tuttavia per tantissimi anni fino al 2020 è stato pressoché dormiente credo che nell'arco di quei sette anni abbiamo pubblicato solo qualche video musicale senza i video talk che ormai da quattro anni invece avete imparato a conoscere è con il 2020 che io ho deciso di accelerare l'attività di questo canale nella direzione di una migliore promozione dei prodotti valut luna perché mi sono reso conto che praticamente mai la critica ufficiale era stata in grado di disegnare e inquadrare alla perfezione la mia attività e il senso e il significato dell'etichetta valut luna ecco quindi che con questo canale ho deciso di dedicare molto tempo e molto spazio a spiegare esattamente il senso specifico di ciascuna delle mie produzioni via via che venivano e che vengono realizzate e quindi un canale che nasce innanzitutto con questo scopo di spiegare promuovere e quindi da ultimo vendere perché io sono un professionista che vive del proprio lavoro e il mio lavoro principale oggi è produrre vendere i miei dischi quindi questo canale nasce con questa prima e prioritaria funzione di promuovere far conoscere e quindi si spera vendere i prodotti valut luna ma siccome a me piace chiedere ma piace anche dare ho deciso di praticamente dedicare un tempo pari se non superiore alla promozione dei prodotti valut luna per la divulgazione la divulgazione di cosa della mia realtà del mio pensiero della mia opinione sui più differenti argomenti relativi al mondo della musica to cure e più nello specifico della musica registrata e riprodotta parlando anche degli strumenti utili per la riproduzione della musica quindi gli apparecchi ma come ho detto e continuo a ribadire io sono un umanista quindi a me interessa poco o nulla della tecnica con cui sono realizzati gli apparecchi ma mi interessa molto di più come suonano questi apparecchi ora io mi pongo in una posizione privilegiata rispetto al normale audiofilo perché ho la possibilità di valutare gli apparecchi attraverso registrazioni di cui conosco ogni più recondito dettaglio ovvero io so esattamente come deve suonare la registrazione che utilizzo per testare le macchine perché perché l'ho realizzata io in ogni sua fase fin dalla scelta dei musicisti quindi certamente io non pretendo di avere la verità assoluta in tasca ma quando io parlo di un apparecchio esiste una coerenza di percorso che credo dia un significato e un'importanza alle mie parole significato ed importanza sempre comunque in relazione a chi sono io ad ampio spettro inteso ovvero a chi è il marco lincetto che anche un umanista che anche un esperto di diritto ovvero tutto quello che io sono perché tutto porta a influenzare un'opinione un parere che viene espresso anche su un DAC anche su un amplificatore quando io parlo di una di queste macchine a parlare è tutto questo mio background che ripeto non pretende di avere la verità assoluta ma una verità io credo comunque appena un po' importante anche e soprattutto in relazione al mio retroterra culturale globale un altro aspetto che caratterizza questo canale da sempre e che fortunatamente è stato notato da molti e addirittura è uno dei motivi per cui molti seguono questo canale questo signore a videocamera fissa che parla per mezz'ora è esattamente il modo che io ho di parlare ovvero l'utilizzo corretto spesso anche forbito che faccio della lingua italiana in un mondo di tv 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 forse tornare a sentire parlare una persona incorretto italiano con proprietà di linguaggio e un vocabolario piuttosto ampio a propria disposizione rende l'ascolto di queste mie chiacchiere più interessante ora alcuni pare che considerino questo mio un vezzo quasi una provocazione oggi la cultura la proprietà di linguaggio in un mondo appiattito azzerato culturalmente con persone che quando va bene dispongono di un vocabolario di tre o quattrocento parole evidentemente è considerato elitario è considerato appunto un vezzo ebbene io non la penso così altrimenti non farei quello che faccio e sono anzi molto orgoglioso di questa mia scelta di questa mia possibilità che tuttavia non è una possibilità innata se io parlo in un certo modo è perché ho un retroterra culturale di un certo tipo noi siamo ciò che parliamo parafrasando il celebre aforisma che dice noi siamo ciò che mangiamo ebbene sicuramente noi siamo ciò che mangiamo ma noi siamo anche ciò di cui parliamo e questa è una cosa che io reputo forse la più importante di tutte per questo stesso motivo rarissimamente per non dire quasi mai se non in termini ironici io utilizzo nelle mie presentazioni nelle mie recensioni il classico linguaggio audiofilo ovvero un linguaggio di fantasia a volte geniale creato fra gli anni ottanta e novanta principalmente da alcune penne molto felici e poi purtroppo abusato dai più senza avere purtroppo il retroterra culturale di chi ha inventato questo linguaggio no io ho scelto di usare semplicemente banalmente concedetemelo la lingua italiana che ha già in sé tutte le parole gli aggettivi e gli avverbi più che sufficienti per descrivere qualunque cosa comprese le sensazioni sonore da ultimo questo è un canale propositivo è un canale youtube ovvero un social che non è esattamente un social di discussione fin dal primo momento in cui ho aperto questo canale l'intenzione era semplicemente di proporre me stesso i miei progetti le mie idee io propongo me stesso propongo le mie opinioni ma non ho nessuna intenzione di discuterle di scendere a discutere di queste mie opinioni in una pubblica agora soprattutto laddove nel 90 per cento dei casi non so chi ho dall'altra parte non so chi ho di fronte a me non interessa per questo esistono degli spazi che si chiamano forum di discussione youtube è qualcosa di leggermente diverso youtube è uno spazio che fondamentalmente e principalmente consente a dei creativi di proporre il proprio progetto le proprie idee e poi come accessorio anche al pubblico di commentarle tuttavia lo stesso youtube prevede a livello strutturale una serie di strumenti di cosiddetta moderazione anche perché tutto ciò che viene scritto pubblicamente riveste ha in sé una responsabilità di ciò che viene scritto e chi gestisce un canale perché di fatto chi è proprietario di un canale ha anche la responsabilità della gestione del medesimo deve in qualche modo rispondere dei contenuti che vengono proposti all'interno dei commenti forse non a livello legale anche se questo è un punto controverso su cui ci sarebbe molto da dibattere e questa non è la sede ma certamente dal punto di vista morale ecco quindi che una delle possibilità che offre il sistema le regole della community come si usa dire è quella di trattenere tutti i commenti per una approvazione preventiva ed è quello che io da circa un anno ho deciso di fare questo per evitare che sotto i miei video compaiano insulti compaiano sarcasmi eccessivi compaiano forme di chiara diffamazione ancorché senza aver usato termini direttamente offensivi perché vi ricordo che il concetto di diffamazione è un concetto piuttosto ampio e che non necessariamente prevede l'utilizzo di termini offensivi si possono costruire dei ragionamenti diffamatori anche senza utilizzare strumenti offensivi in via diretta ed esplicita tutto questo può accadere e accade ve lo garantisco nei confronti miei ovvero di chi si ospone ma anche nei confronti di altri semplici cittadini che hanno commentato prima di chi propone la diffamazione o l'offesa quindi non vengono tollerati in questo canale questi atteggiamenti a nessun titolo e quindi è stato scelto di utilizzare uno strumento disponibile e previsto dalle regole della community di youtube dell'approvazione preventiva di ciascun commento quindi io li elimino se è il caso a priori prima ancora che vengano pubblicati questo è anche uno dei motivi per cui può capitare che voi scriviate un commento e poi non lo vedete nell'immediato perché ovviamente questo strumento di moderazione non è in tempo reale io dedico circa tre momenti della giornata a verificare ogni singolo commento proposto sotto ai miei video e quindi può esserci un lasco di tempo fra il momento in cui voi scrivete il commento e il momento in cui poi voi lo vedrete apparire sotto al video e spero una volta per tutti di aver chiarito questo punto ma forse non ancora completamente io ho detto che non ho intenzione di discutere nella pubblica agora nella pubblica piazza ciò che propongo in questi video ed è vero ma questo non vuol dire che io non sia disposto a discutere le mie idee tucur semplicemente io ritengo che una discussione sui massimi sistemi una discussione realmente produttiva e interessante per chi la sostiene debba essere realizzata faccia a faccia e non faccia a faccia attraverso strumenti elettronici ma con i due contendenti diciamo così presenti nel medesimo spazio fisico nella medesima stanza nel medesimo simposio e soprattutto a me comunque non interessa di discutere di quella che è la mia vita di quello che è un percorso durato 50 anni con chi di questi argomenti tratta esclusivamente come hobby dopo lavoristico mi dispiace non sono disposto io non sono una persona inclusiva da questo punto di vista nell'accezione migliore del termine io sono una persona esclusiva e attenzione non sto dicendo che io mi interfaccio solo con chi ha i titoli per farlo i titoli per me sono quello che uno fa ha fatto e farà nella vita sono i fatti non i titoli accademici e un esempio eclatante di quanto sto dicendo sono io stesso è un episodio dei molti che caratterizzano la mia attività professionale io infatti sono stato docente a contratto all'interno di un corso di laurea che si occupa di questa materia cioè le tecniche di registrazione senza avere la laurea di quel corso di laurea in cui ho insegnato come docente e questo direi che è la prova eclatante di quanto sto dicendo ovvero che non mi interessano i titoli accademici non richiedo che chi sta davanti a me abbia prima scritto ing o quant'altro mi interessa qual è il suo percorso di vita cosa ha fatto nella vita quindi uno per tutta la vita potrà aver condotto autobus per guadagnare il pane quotidiano ma parallelamente aver sviluppato una profonda conoscenza di una determinata materia ebbene se questa materia è la mia materia io non avrò problemi a discuterne con il conduttore di autobus ma prima io devo capire e sapere cosa ha fatto parallelamente alla sua attività di conduttore di autobus nell'ambito della musica per capire se ha un senso che io discuta con lui di una materia cui ho integralmente dedicato 50 anni della mia vita e spero che sia definitivamente chiaro questo concetto questo video come scritto fin dal titolo fin dalla miniatura come si usa dire è un va de mecum infatti sarà posto come video di riferimento nella home page del canale e sarà proposto il link a questo video nella descrizione sotto a tutti i video prossimi che verranno realizzati per questo canale e a chiunque dovesse proporre domande proporre illazioni fare battute e ironia anche fuori da questo spazio in altri spazi cosiddetti social del web io non risponderò più nel punto ma semplicemente linkando questo video una volta per tutte io credo che tanto vi dovevo come si dice per chiarire definitivamente le mie posizioni dal punto di vista tecnico su quella che è il mio approccio alle mie registrazioni e quindi cosa voi potete trovare all'interno di un mio master o di un mio supporto e soprattutto qual è l'approccio filosofico di questo canale in modo chiaro spero trasparente spero una volta per tutte definitivo e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi è tutto rimandandovi evidentemente e inesorabilmente all'ascolto del brano di oggi è tutto questo è tutto folks grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti